In questo video andremo ad analizzare la tastiera meccanica da gioco Rantopad MT Aegis Abbiamo già analizzato negli scorsi giorni il mouse da gaming Rantopad FF E oggi continuiamo con questa tastiera meccanica Partendo velocemente dalla confezione troviamo immagini in ostativa della tastiera Alcune informazioni, loghi e quant'altro Che sono riportate anche nel retro della confezione stessa Con ulteriori illustrazioni e descrizioni Ovviamente come abbiamo detto essendo il brand cinese Troveremo delle descrizioni soltanto in cinese Detto ciò all'interno della confezione troviamo un panno per pulire la superficie della tastiera Vari manuali e cataloghi dei prodotti della Rantopad Una specie di coupon per credo vincere qualche prodotto della Rantopad Ovviamente è scritto in cinese quindi non capiamo bene a cosa si riferisca Un piccolo oggettino che potrà esserci utile per tirare via i cake up della tastiera E pulire eventualmente la stessa Ed ovviamente la tastiera stessa Come possiamo vedere è una tastiera full layout Quindi tutto dato anche di tastierino numerico Colorazione nera e gialla Anche se questa colorazione è gialla Altro non è che una specie di plate Adesso vi faccio vedere Ancorato alla superficie superiore della tastiera Infatti questo è un plate in plastica Nella parte inferiore troviamo dei piccoli magneti Che ci permetteranno appunto di adagiare semplicemente il plate E innestarlo sulla superficie superiore della tastiera e quant'altro Passando alla tastiera stessa Design classico Colorazione prettamente nera Tranne questo plate che ovviamente potremo intercambiare con altri forniti dall'azienda Che ovviamente vanno acquistati a parte La tastiera ha una retromiazione di colore blu Che potrà essere variata di intensità e di effetti Tramite i tasti F10 ad F12 Con il tasto F9 potremo passare dalla modalità normale alla modalità gaming Mentre con i tasti F11 ad F8 potremo accedere ai tasti multimediali Ovviamente come sempre dovremo passare la combinazione del tasto FN più il tasto che ci interessa Nel retro della tastiera stessa troviamo un design altrettanto classico Troviamo semplicemente dei piedini in gomma più dei piedini in plastica A loro volta con un piccolo inserto in gomma Quindi per rialzare un minimo la tastiera e aggiornare come sempre la scrittura o il gioco I lati sono caratterizzati da una specie di inserto in alluminio con la scritta Rantopad Sia nel lato destro sia nel lato sinistro Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore è placato in oro con un piccolo cappuccio Mettiamo un attimo su posto questo piccolo cappuccio La tastiera è layout americano Dotata di switch meccanici di colore blu Che adesso vi mostriamo Ok E sopra diciamo la struttura dello switch troviamo anche una sorta di Cioè troviamo il led che appunto darà la redominazione ai tasti Abbiamo precedentemente estratto già la tastiera come stiamo ultimamente facendo Con tutti i prodotti analizziamo E digitando un po' casualmente i tassi Digitando praticamente i tassi della tastiera Ci siamo accorti che i switch che vengono utilizzati per questa tastiera Non sembrano essere proprio dei CRMX o dei KIL Ma una copia abbastanza economica di entrambi E infatti anche il suono non è dei migliori Ma vedremo tutto questo ovviamente nei nostri test Quindi per ora è tutto Vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardor.com Un saluto a tutti lo staff Grazie a tutti